Più che uno scherzo, comunque di pessimo gusto, dobbiamo parlare di un autentico atto vandalico, costato più di una scocciatura e in qualche caso un danno economico a diversi automobilisti che si sono trovati, loro malgrado a transitare lungo la strada principale della frazione casalesi di Agoiolo nella tarda serata di martedì. I gnoti, infatti, hanno posizionato oggetti contundenti per la precisione, lame di cutter di traverso incastrate nelle fessure di diversi tombini. Su uno di questi ne sono state ritrovate addirittura 13. Diversi gli pneumatici forati con segnalazione giunte poi a Carabinieri e Polstrada che stanno indagando sulla vicenda. Sin qui si è solo saputo che nei giorni precedenti lo scherzo, per così dire, un'auto sospetta che ha effettuato fermate proprio vicino ai vari tombini incriminati è stata notata da più di un passante. Troppo poco per avere certezze, anche perché in assenza di più video delle telecamere di videosorveglianza diventa difficile avere prove certe che poi possano servire alle indagini. I cinque tombini interessati si trovano lungo la strada provinciale bassa che taglia in due la frazione di Agoiolo, dunque la strada senza dubbio più trafficata. Chi ha messo quei cutter voleva dunque avere la certezza di provocare un danno abbastanza esteso. Va anche detto che trovandosi a ridosso delle case, in genere su quella strada si viaggia a velocità non troppo sostenuta, il che ha impedito che, oltre al danno materiale agli pneumatici, non si verificassero problemi all'incolumità delle persone, dato che il rischio, una volta forato, di perdere il controllo del mezzo a grande velocità è sempre dietro l'angolo. Insomma, poteva anche andare peggio, a conferma della stupidità del gesto.